Ciao buongiorno ragazzi, allora ieri sera ci siamo divertiti un sacco, abbiamo messo a confronto due generazioni, una del 1934 e l'altra del 2014, vediamo cosa è uscito Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Chiedo Edoardo cosa vuole per il complianco? Cosa ti prendo per il compleanno? Bitcoin! Cosa? Bitcoin! Cos'è il Bitcoin? Chiediamo alla nonna se vuole anche lei un Bitcoin Vuoi un Bitcoin per il compleanno? Sì! Un Bitcoin? No no, io non voglio niente, so bene come sono E quindi cosa compriamo per il compleanno? Un Bitcoin! E' un certo Bitcoin Bitcoin, no Bitcoin Bitcoin? Bitcoin? B-C-C-O-N B-C-C-O-N No E E' una cosa? E' un altro BIT, BIT, con la T, BIT, BIT, CORI, bravo, iscrivetevi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, mettete un bel mi piace, e ci vediamo alla prossima, ci vediamo alla prossima, ciao, ciao a tutti. BIT, BIT, BIT.